Salve amici di YouTube, come state? Io tutto bene. Oggi, giorno 25 novembre, violenza mondiale contro le donne. Ci sono stati molti femicidi in questi mesi. Non bisogna mai picchiare una donna o la propria fidanzata o la propria moglie. Bisogna sempre rispettarla e amarla e volergli bene. Capito? Perché ci sono stati molti casi di femminicidio e quindi speriamo che praticamente si risolvi tutto. Adesso vi saluto, il vostro Manolo vi augura una buona cena a tutti e ci risolviamo alla prossima. Ciao!